Buongiorno a tutti, oggi voglio presentarvi questa scultura a linea realizzata in ambito tirolese nella metà del Settecento. Si tratta di un'opera interamente laccata di bianco con particolari dorati. L'ambito nordico è richiamato proprio da questa modalità di trattare la superficie scultoria. Infatti modalità simile di laccatura e di doratura sono ravvisabili in alcune delle sculture realizzate per la cattedrale di Colonia. Altreside e rimandi sono possibili con altre sculture, in questo caso di carattere profano, realizzate per il Parlamento di Innsbruck. Il soggetto raffigurato è quello di San Crispino o San Crispiano. Si tratta di un santo che solitamente viene rappresentato in abito da lavoro, infatti come vedete ha un grembiule e dentro di esso vi è questo strumento utilizzato dal lavoro. Sono dei suoi attributi in riferimento a quella che è l'attività di calzolaio che svolse durante la propria missione di evangelizzazione in Gallia e proprio per questo motivo entrambi sono considerati santi protettori dei calzolai.